la valutazione finale assegnata a questo articolo di idralite è di 9.2 voti su un totale di 10 in questa selezione risulta essere il migliore ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono stile ottimo rapporto qualità prezzo facile da pulire durabilità facile da montare puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video la valutazione di questo prodotto di rollplast pinto è di 8 voti su 10 risulta al momento avere il miglior rapporto qualità prezzo le sue qualità sono ottimo rapporto qualità prezzo stile facile da montare se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video questo prodotto realizzato da forte ha conquistato una votazione di 8 su 10 punti totali lo valutiamo come la scelta migliore le sue principali funzionalità sono durabilità ottimo rapporto qualità prezzo facile da installare stile facile da montare se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video